Incontro fattivo e collaborativo tra il sindaco di Vallo della Lucania Antonio Aloia e il direttore dell'Asla di Salerno Antonio Giordano per l'atteso potenziamento dell'ospedale San Luca. Nei prossimi mesi sarà data attuazione alla programmazione prevista mettendo in atto gli interventi necessari per assicurare i livelli di assistenza erogati da una struttura DEA di primo livello come l'ospedale San Luca. E' l'impegno assunto ieri mattina presso la sede dell'Asla dal manager Giordano a pochi giorni dal presidio organizzato nei pressi della sede dell'Asla di Vianizza da sindacati, cittadini e rappresentanti del comitato pro-ospedale di Vallo che ha confermato le sue intenzioni della struttura sanitaria ribadendo gli impegni già assunti in precedenza con il primo cittadino vallese. Il colloquio franco e cordiale è durato oltre un'ora e si è snodato in un clima di fattiva collaborazione istituzionale, ha dichiarato il sindaco Aloia, che ha avuto modo di elencare in dettaglio le attuali lacune che soprattutto nel periodo estivo generano disagi all'utenza, proponendo al direttore generale possibili soluzioni a breve termine. Si è discusso della carenza di personale che rappresenta il problema più importante del nostro comio vallese. Per quanto riguarda la carenza di personale infermieristico, è stato concordato che entro settembre sarà pubblicato il bando di mobilità interregionale con la previsione di un congruo numero di infermieri ed operatori sociosanitari destinati a San Luca in relazione al fabbisogno attuale. In riferimento alla carenza dei medici, il direttore generale ha assicurato di voler portare a termine entro il mese di ottobre i concorsi di dirigente medico in fase di espletamento per l'intera ASL, per l'unità operativa di radiologia, anestesia, rianimazione, cardiologia e medicina d'urgenza. Terminata questa prima fase, si procederà alla procedura concorsuale per l'ortopedia, malattie infettive, urologia, pediatria, medicina generale e patologia clinica. Il direttore generale Giordano ha pure assicurato che saranno espletati al più presto i primi concorsi banditi per primario, in particolare per quanto riguarda il nosocomio, il primario di neurochirurgia, l'unità operativa strategica per l'ospedale, idea di primo livello. Successivamente si avvieranno le procedure per le unità operative che presentano questa importante carenza, in particolare la chirurgia vascolare. È stato pure affrontato il tema dei lavori urgenti da eseguire alla struttura ospedaliera di Vallo della Lucania. Il direttore generale ha assunto l'impegno di bandire entro settembre la gara per i lavori di rifacimento dell'intonoco esterno, in fissi bagni e percorso delle sale operatorie dell'ala sud-ovest, per una spesa complessiva di circa un milione di euro. Il sindaco di Vallo della Lucania ha aggiunto di aver chiesto l'impegno sugli altri lavori urgenti da espletare al più presto, la pavimentazione dell'intero stabile, in particolare delle sale operatorie, e la realizzazione del gruppo operatorio di ostetrici e ginecologia, ed anche su questo punto è stata registrata una disponibilità massima da parte del direttore generale Antonio Giordano. Grazie a tutti.